Buongiorno amici da Guido Bagatta, benvenuti e bentornati da queste parti. Oggi parliamo di calcio, però lo facciamo in proiezione 2024. No, non ancora calcio mercato, ma calcio giocato, perché con il nuovo anno inizieranno la Coppa d'Africa e la Coppa d'Asia, praticamente quello che è l'equivalente del nostro campionato europeo, che poi vedremo nel giugno in Germania. Questo però vuol dire che per il campionato italiano, ma non solo per il nostro campionato, anche per tutti quelli in Europa, ma noi ci concentriamo su quello di casa nostra, potrebbero, potrebbero, diciamo, usiamo ancora il condizionale, partire ben 51 giocatori. Ovviamente la stragrande maggioranza di questi sono africani, ci sono anche quelli che sono stati convocati da nazioni invece dell'estremo oriente, però questo è un altro discorso perché sono veramente una percentuale irrisoria. Per quanto riguarda invece i convocati per la Coppa d'Africa sono tanti, ci sono delle squadre come ad esempio il Napoli, che soffrirà sicuramente perché perderà Ozymane, che andrà a giocare con la Nigeria, che peraltro ha tantissimi, tantissimi protagonisti nel nostro campionato, che hanno già risposto sì alla convocazione del loro CT, oltre Ozymane il Napoli perderà anche Angissa. Quindi due protagonisti, due titolari nel Napoli, che aveva vinto ovviamente lo scudetto con Spalletti, e due titolari chiari anche in questo caso, quest'anno, nella gestione attuale di Mazzari. Lo erano anche con Garcia, ma quella l'abbiamo dimenticata come gestione e come periodo. 51, dicevamo, in tutto. Ci sono delle squadre che andranno più in sofferenza. Per assurdo una di queste, la Salernitana, che sta lottando per non retrocedere quest'anno, ed è probabile che a gennaio arrivassero i soldi, la proprietà concedesse appunto un'iniezione di denaro. La Salernitana cambi tantissimo, si dice addirittura sei undicesimi di quelli che stanno giocando da titolari. Dicevo, la Salernitana, a proposito di sei, perderà sei giocatori. Il Milan due, Benasser e Ciocqueze, con la possibilità però che il primo dei due non risponda sì alla chiamata. Ci sono ancora dei dubbi che saranno ovviamente sciolti e risolti in questi giorni. Una curiosità per finire. Allora, quali sono le due squadre che invece non avranno nessuna assenza, nel senso che nessuno dei loro giocatori rientra appunto nei possibili convocati? Le due prime, Inter e Juventus, che non perdono nessun giocatore, nessuno è stato convocato, perché appunto non hanno né giocatori africani né giocatori orientali. Mettiamola in questo modo. L'impegno per quelli convocati è tutto il mese di gennaio con qualcosa in più per febbraio, in caso la loro nazionale vada fino in fondo, perché ovviamente tutto è legato anche per quanto tempo durerà la corsa della nazionale in questione. Mettiamo la Nigeria di Osimè, se andasse in finale il Napoli recupererebbe il suo attaccante più o meno a metà febbraio, il che per tutto l'entourage dei campioni d'Italia sicuramente non è una buona notizia. Bene, detto questo noi ci vediamo da queste parti ancora domani. A tutti, un abbraccio e arrivederci.